Appena rientrato dal Brasile, mi è tornato Giulio, al di là del viaggio che immagino ti abbia reso un po' stanco, come stai? Tanti tifosi ci hanno scritto che erano preoccupati per te. Sì, lo so, non fai spendere le camere se non dobbiamo rifare tutto. Senti, a parte rischiare, se no sto bene, sto bene. Ho accanto di rientrare prima per non rischiare niente. Adesso faccio una bella settimana di lavoro, qua recupero bene. Per esserci contro Catania. Quindi sei possibilista per quello che riguarda la prossima partita dell'Inter. C'è la possibilità, il professor Runco ha deciso di mandarti a casa proprio per far sì che tu potessi lavorare con maggior tranquillità rispetto a quello che avresti avuto in Nazionale. Sì, lui ha visto che c'era un rischio, no? Ho ragionato insieme allo staff della Nazionale e secondo lui era meglio per me. Sono stato d'accordo, così adesso ho fatto un lunghissimo viaggio per rientrare. Sono qua a disposizione. Catania e Lille bisogna vincere perché bisogna rimettersi in pari. Sì, sì. Penso che l'ultima giornata è andata male per tutta quella storia lì che è successa, caduto. Vero come campionato è ancora l'inizio, ci sono tante partite da giocare. La cosa importante è che ci sono degli infortunati che stanno recuperando anche per esserci a disposizione del mister. Adesso c'è Michael tra l'altro, torna ad essere al tuo fianco. Sì, sono contento perché di là di essere un amico, è un giocatore che tutti noi sappiamo, la sua forza. È rientrato come sia niente successo a lui, no? Sono contentissimo, allora faccio tifo per rientrare subito anche Snyder che è un giocatore che può fare la differenza da solo. Vediamo, scusa che sto parlando così, sono veramente stanco, ho un sonno. Ne facciamo il tifo per te, Giulio. Ciao, ciao, ciao.